Tempo di big match per le ragazze del Verona che questo sabato all'Olivieri di Via Sogare affronteranno il Brescia nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Per continuare ad inseguire il sogno europeo, le giallo-blu avranno un solo risultato a disposizione, vale a dire la vittoria. Le Lombarde occupano infatti la seconda posizione in classifica con otto lunghezze di vantaggio sulle scaligere che tuttavia devono ancora recuperare il match casalingo con il Napoli in programma mercoledì prossimo. Sabato scorso le veronesi hanno iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno, rifilando una pregevole cinquina al Pordenone e dimostrando un ottimo stato di forma. Per il derby del Lago, che sarà seguito anche dalle telecamere Rai, Mister Longega spera di recuperare anche la nazionale Marta Carissimi per dare maggiore consistenza al centrocampo. Bisogna vincere, non sarà facile anche perché il Brescia è una buona formazione, ha delle giocatrici molto brave. Noi stiamo comunque recuperando degli atleti importanti e crediamo di poter fare una bella partita e di potertela giocare a viso aperto. Quello di sabato sarà un match particolare per molte protagoniste di entrambe le squadre. Numerose le ex giallo-blu che indossano la maglia con la V azzurra del Brescia, a partire da Valentina Boni che scrisse pagine importanti della storia scaligera. Sono invece tre le Bresciane che militano nel Verona, Girelli, Capelloni e Maffezzoni, anche se nessuna ha indossato la maglia delle rondinelle. Sette i precedenti confronti nella massima serie tra veronesi e Bresciane, con un sostanziale equilibrio. Tre vittorie per parte ed un pareggio, quello registrato all'andata quando le scaligere, avanti di due reti, sul campo Lombardo vennero riacciuffate nella ripresa. Adesso è la gara decisiva, anche se è l'andata comunque ci è rimasto la mare in bocca di una partita che avevamo iniziato bene. Eravamo sul 2-0, poi loro sono state bravi a recuperare, ma sappiamo che qua non è facile, loro comunque verranno qui per vincere, come dobbiamo fare anche noi. Stiamo lavorando bene, stiamo curando i minimi dettagli. Adesso sabato parlerà il campo e vediamo se abbiamo lavorato bene. L'appuntamento per sostenere le veronesi è alle 14.30 di sabato allo stadio di Via Sogare, vicino al Bentegodi. Anche per il Derbissimo l'ingresso sarà completamente gratuito.